Musica Buonasera e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Rieti Life Tutta l'informazione di Rieti e provincia su rietilife.com, facebook, instagram e Rieti Life TV Tre giorni di caldo intenso per Rieti con temperature costantemente sopra i 30 gradi centigradi e picchi fino a 36-37 gradi Il Ministero della Salute ha emesso un bollino rosso per le ondate di calore fino al weekend e l'analisi odierna determinerà i bollini per i giorni successivi Le minime notturne non scenderanno mai sotto i 20 gradi centigradi L'ondata di caldo causata da un anticiclone africano si attende durerà oltre il previsto portando temperature ben superiori alla media e un aumento ulteriore nei prossimi giorni Stando alle dichiarazioni di governo, regione e commissario straordinario al Sisma la ricostruzione post terremoto 2016 procede spedita nel cratere con lavori avviati per il municipio di Amatrice e altre opere private Importanti interventi sono in corso sulla salaria per ridurre l'isolamento del Rietino con nuovi svincoli e un ponte previsto entro fine anno sul Turano Tuttavia la salaria verso Ascoli resta nel disagio causando un allungamento dei tempi di percorrenza per i tanti pendolari Un lettore, la cui lettera la trovate su rietilife.com, critica la lentezza dei lavori del ponte a Saletta e denuncia la deviazione di 5 km causata proprio da questa operazione in realtà cantiere mai avviato chiedendo interventi immediati che mancano ormai da anni Il comandante provinciale dei carabinieri di Rieti, Valerio Marra ha presentato stamattina la campagna nazionale dell'arma per prevenire le truffe agli anziani non aprire agli sconosciuti ovviamente la primissima regola ma anche verificare sempre chi sta suonando alla porta magari dall'occhiello e diffidare di falsi tesserini e chiamare il 112 in caso di sospetti Negli ultimi 12 mesi i carabinieri di Rieti hanno denunciato e arrestato gli autori di 15 su 23 truffe tentate o realizzate nel territorio la campagna di prevenzione include incontri, l'aumento della videosorveglianza la fissione di locandine, la distribuzione di opuscoli e la diffusione di video sui social e sulle reti nazionali altri dettagli su rietilife.com Serata movimentata in zona Ponte Romano mercoledì sera intorno alle 23 due uomini extracomunitari si sono tuffati nel velino uno dei due si è tuffato direttamente dal Ponte Romano apparsi entrambi visibilmente ubriachi prima di tuffarsi sono poi usciti dal fiume uno è stato preso dalle forze dell'ordine immediatamente poi affidato alle cure del 118 perché ferito a un piede mentre l'altro si è dato inizialmente alla fuga durata poco prima del freno il tutto si è svolto sotto gli occhi increduli dei passanti a quanto risulta i due si sarebbero tuffati per recuperare un pallone finito nel velino sul posto carabinieri e polizia un episodio di degrado a cui forze dell'ordine quotidianamente insieme alle istituzioni e alle autorità cercano di porre un freno non senza difficoltà lo stadio centro d'italia Maglio Scopigno ospiterà il 10 settembre una partita di Elite League tra l'Italia Under 20 e la Germania Under 20 questo evento fa parte della partnership tra FIGC e Regione Lazio che ospiterà anche partite della nazionale maggiore dell'Under 21 in tutta la regione il 5 settembre l'Italia Under 21 giocherà contro San Marino a Latina, al Francioni per le qualificazioni agli europei 2025 il 10 ottobre la nazionale maggiore affronterà il Belgio allo stadio olimpico per la Nations League e nell'estate 2025 il Lazio ospiterà le finali giovanili dalla Under 18 all'Under 15 spazio anche alle gare del calcio nazionale ovviamente della nazionale azzurra femminile Rieti anche in questo caso come per l'Under 20 del 10 settembre è candidata era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale che torna domani alle 20.45 rimanete informati con i nostri siti con il nostro free press e visitate Rieti Live TV il bottone per raggiungerla è vicino al logo della nostra testata su rietilife.com grazie alla regia di Luciano Mancini grazie a voi per averci seguito buona serata grazie a tutti